Ciao a tutti, nuovo video dedicato al PodHD, un video che oggi vorrebbe essere non solo di avviso per tutti voi, ma anche e soprattutto di celebrazione. Celebrazione di quello che è il potere di internet e nello specifico il potere delle community, come è la nostra community di utenti italiani su Facebook Line6PodHD Italia, il gruppo vi ricordo creato da me a cui vi invito come ogni volta a iscrivervi, trovate il link in descrizione. Un gruppo dove ci piace scambiarci preset, scambiarci consigli per il miglior utilizzo della macchina, condividere le nostre esibizioni con il PodHD e la nostra musica suonata con il Pod, e un gruppo dove in generale ci piace aiutarci a vicenda nel nome di una passione condivisa come quella appunto del suonare la chitarra attraverso un prodotto come il PodHD. Ma perché vi sto raccontando questo aneddoto oggi? Perché è successa una cosa molto particolare che appunto mi fa credere nel valore di spazi condivisi come quelli su internet dove utenti accomunati da uno scopo si aiutano a vicenda. È successo che il nostro utente Antonio, membro appunto di PodHD Italia su Facebook, si è prodigato a tradurre in totale autonomia l'intero manuale del PodHD in italiano. Un lavoro veramente lodevole per cui ringrazio personalmente Antonio a nome mio, a nome di tutti gli iscritti del nostro gruppo Facebook e perché no in anticipo a nome di tutti voi che state guardando questo video. Un lavoro veramente importante perché la traduzione del manuale in italiano era attesa da molto tempo dall'utenza italiana in generale e non è mai stata fornita ufficialmente da Line6. Quindi quello di Antonio è un lavoro veramente lungo e importante per cui credo che dovremmo tutti essere di grati. Potete scaricare il pdf del manuale tradotto in italiano per PodHD 500X nello specifico. Vi ricordo che se avete prodotti inferiori come il normale 500 che è comunque identico ma anche il 400 il 300 o il fagiolo il manuale avrà delle parti in più rispetto al vostro prodotto ma troverete sicuramente quello che vi serve. Potete scaricare il manuale iscrivendovi al nostro gruppo Facebook. Lo trovate nella sezione file e trovate ripeto il link per l'accesso al gruppo Facebook in descrizione oppure semplicemente cercate su Facebook PodHD Italia oppure se per qualche motivo non vi interessa aderire al gruppo Facebook o non avete un profilo Facebook potete scaricare il manuale dal link per il download diretto che ho preparato in descrizione. Quindi detto questo vi saluto abbiamo ufficialmente un manuale in italiano per il PodHD grazie ad Antonio. Vi ringrazio dell'attenzione. Ciao a tutti vi invito come al solito a iscrivervi al canale. Ciao e grazie!